Filippo Falco, centrocampista di proprietà del Lecce, attualmente in forza al Trapani, verrà con ogni probabilità riscattato dal club Granata. Il Trapani presenterà la richiesta di riscatto per il trequartista, mentre il Lecce, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, non farà il secondo passo, ovvero quello del controriscatto, lasciando così il giocatore in mano ai Granata. Il primo rebus che dovrà sciogliere invece il nuovo direttore sportivo del Catania, in vista della prossima stagione, riguarda la situazione dei portieri. Il Catania infatti ha abbondanza di estremi difensori, visto che sotto contratto ci sono Jean-François Gillet, portiere esperto e di grande affidabilità, Pietro Teracciano, giovane ma grande promessa del calcio italiano, e il rientrante Alberto Frison, che sta per chiudere la sua esperienza alla Sampdoria. Da quanto Trapani infatti il club blu cerchiato non eserciterà il riscatto di Frison arrivato a gennaio nella città Ligure, l'ex del Vicenza, che potrebbe chiedere alla dirigenza etnea un ritocco dell'ingaggio, quasi sicuramente verrà messo in partenza.